Buongiorno da WTV News. Oggi, 12 ottobre, è beato Carlo Acutis, un giovane deceduto a soli 15 anni nel 2006, già proclamato patrono del web. Dichiarato venerabile nel 2008 e stato beatificato il 10 ottobre 2020 dopo averne accertato almeno un miracolo, ovvero la guarigione di un ragazzo brasiliano avvenuta dopo averne toccato le alliquie. Dal 2004 l'Italia celebra oggi la giornata nazionale di Cristoforo Colombo, che coincide con il giorno in cui fu visitata l'isola di San Salvador. Il giorno di Colombo, meglio noto come Columbus Day, è stato celebrato per la prima volta da italiani nella città di San Francisco nel lontano 1869. Nonostante il primo Stato a far riconoscere ufficialmente questa ricorrenza sia stato il Colorado, il 12 ottobre 1492 è una data che viene riportata studiata sui libri di scuola. Secondo le ricostruzioni storiografiche, dopo circa due mesi di navigazione a bordo della Pinta, una delle caravelle, Cristoforo Colombo avvissera terra, ma invece delle Indie l'esploratore genovese giungerà nel nuovo mondo su un'isola chiamata Guanahani, nella lingua locale e che verrà ribattezzata dallo stesso genovese con il nome di San Salvador, un'isola delle Bahamas.